Ancora ben trovati, ben trovati a tutti, siete collegati per seguire gli ultimi minuti di Audace Cerignola, Taranto risultato che è cambiato negli ultimi 15 minuti di gara, adesso l'Audace Cerignola conduce con il punteggio di 5 a 1, le successive reti sono state segnate poi da Loiodic e Russo, Loiodic è la quarta rete, Russo la quinta rete, allora viviamo insieme questi ultimi minuti di questa bellissima sfida che ha visto l'Audace Cerignola trionfare in questa finale play-off con due doppiette, Luca Russo e poi Loiodice che è stato tra i protagonisti ma anche Abruzzese non è stato da meno, ha portato a casa questo importante risultato, ultimi 40 secondi di grancora con l'ultimo attacco da parte del Taranto con D'Agostino che viene fermato molto bene dai difensori della formazione giallo-blu, lo stadio Monterisi è tutto in festa, i tifosi stanno continuando ad incitare la squadra, c'è stata una standing ovation sia per Loiodice che per Abruzzese che ha 38 anni sicure questo incredibile traguardo, mancano 15 secondi alla fine, ormai siamo quasi vicini a questo traguardo per l'Audace Cerignola che esattamente adesso con il triplice fischio di Giaccaa chiude la finale play-off vincendola con il punteggio di 5-1 nei confronti di un Taranto assolutamente inguardabile, davvero perché dopo i tre gol subiti il Taranto aveva segnato con di Bari, poi si è fatto beppare sia dalla rasoterra di Loiodice che poi dal gol di Russo, ormai il 95esimo già scaduto, ancora un altro tentativo di attacco per il Taranto ma ormai sono gli ultimi scampoli di una partita che certifica la vittoria della finale play-off dal Serie D per quanto riguarda l'Audace Cerignola e in questo momento arriva il triplice fischio di chiusura, dunque l'Audace Cerignola batte il Taranto con il punteggio di 5-1, tutti i giocatori stanno festeggiando sul terreno di gioco, la tifoseria gialloblu è tutta ad incitare i propri beniamini, attenzione non manca qualche evidentemente abbiamo visto, no non c'è stato nessun momento di tensione, sono solo i giocatori che sono andati a festeggiare davanti alla curva gialloblu, un momento davvero molto bello per l'Audace Cerignola che finalmente si porta a casa un traguardo storico, non solo la vittoria della finale play-off per quanto riguarda il campionato di Serie D ma anche la consapevolezza, credeteci che avrà davvero moltissime ottime chance di essere ripescata in Lega Pro, la ex Serie C per inantenderci, noi vi raccontiamo quello che stiamo vedendo, anche i giocatori del Taranto che adesso vanno a subire la contestazione dei propri liposi, mentre a festa, a festa grande, l'Audace Cerignola con tante bandiere gialloblu, tantissime, stanno sparando anche i fuochi pirotecnici a siglare questa importante vittoria, mentre i giocatori vanno ad avere i abbracci e i applausi da parte della tiposseria gialloblu. Dunque un momento storico, l'Audace Cerignola si porta a casa questo importante risultato, 5 a 1 sul Taranto, le reti di Russo, lo Iodice, Abruzzese, di Bari lo Iodice e poi ancora di Russo. Allora a questo punto noi chiudiamo qui questa nostra diretta che abbiamo appettuato nel corso del secondo tempo e anche in questi minuti, l'abbiamo seguita in diretta televisiva, ci spiace che non eravamo al Montesima, ve l'abbiamo voluta comunque raccontare così come è nel nostro stile a dispetto di qualcuno. Ecco, ci togliamo anche qualche piccolo sassolino dalle scarpe, il che non è male. Allora vi salutiamo, vi mandiamo al telegiornale di speciale News Web 24 delle 19.30 per tutti gli approfondimenti di questa bella partita e di questa bella finale vinta dall'Audace Cerignola sul Taranto, 5 a 1. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento.